Ciao ragazzi, questi sono i nostri uffici, i nostri set, dove ogni mattina giriamo e carichiamo un video al giorno per la rubrica 120 secondi di cina. Sì, perché è ormai da febbraio che giriamo e pubblichiamo un video al giorno. Bell'idea. Lo facciamo per condividere con voi la nostra più grande passione. Senza che ci sia una cattedra a dividerci. Una specie di grande antipasto al FG Film Festival. Quello che cerchiamo di fare è creare un evento di qualità in una terra importante. Come immaginate, organizzare un festival e essere costanti con i video non è un compito facile. Noi ti diamo compagnia per un caffè al giorno, tu puoi offrircene uno al viso. A me senza zucchero, eh. Una birra, una cena, una spremuta, un succo, quello che preferisci. Sta a te scegliere. Bastano due semplici click. Puoi farlo dal link che trovi. In descrizione. E già che ci siete, date una sbirciata a quelli che possono essere i vostri vantaggi. Diventa un mecenate del cinema. Diventa un mecenate del cinema. Diventa un mecenate del cinema. Bastano due euro al mese. Buon qualsiasi cosa a tutti i quali.